Ben trovati, il nostro consueto appuntamento con Gabriele Meoli che oggi ci propone un tema, è un tema che porta anche un po' di malinconia, la nostalgia dei luoghi, Gabriele io comincerei da qui però, perché hai scelto questo tema, la nostalgia dei luoghi, c'è qualche fatto di grande attualità che ti ha ispirato questo tema? Sì ci sono anche fatti di attualità però è sempre attuale di per sé la nostalgia perché fa parte del nostro costume di vita, noi abbiamo bisogno anche di rimpiangere, di rimpiangere il passato e di rimpiangere le cose perdute che però non tornano più, la nostalgia ce le fa rivivere, ce le fa rivivere da un punto di vista dell'immaginazione, però noi dobbiamo avere un quadro completo, brevissimo sia pure da citare, della nostalgia perché essa non riguarda solo i luoghi, riguarda anche le persone perdute che vorremmo rivedere e i tempi passati che vorremmo riavere, sono due cose perdute che però fanno parte del nostro bagaglio di nostalgia, desiderio di recuperarli e poi c'è la nostalgia dei luoghi, i luoghi lasciati ecco io ricomincerei proprio da qui, dalla nostalgia dei luoghi i luoghi lasciati possono essere lasciati per vari motivi, alle volte per atto d'autorità come avveniva nei tempi in cui si mandava all'esilio o all'ostracismo persone scomode oppure per necessità come avviene per motivi di lavoro, l'emigrato è uno che lascia i propri luoghi cari per dover lavorare o anche per mentalità perché ci sono coloro che hanno bisogno di lasciare dei luoghi perché hanno bisogno di viaggiare e in questo c'è un fatto caratteriale che li rende anche essi esuli volontari il nostro viaggio comincia sempre con i poeti, comincia con i promessi sposi, con Manzoni naturalmente cominciamo da lui, Lucia noi abbiamo voluto pensare a Lucia perché il passo più bello dei promessi sposi è proprio la di Aiunti che mentalmente Lucia fa quando piange sulla barca dove stanno per essere traghettati alla riva destra dell'Adda e fuggire dalle prepotenze di Don Rodrigo Lucia è nella barca e pensa senza parlare a ciò che lascia e guarda in lontananza la bellezza dei luoghi che vengono descritti in un modo meraviglioso dal Manzoni come tutti quanti conosciamo nel passo dei promessi sposi che comincia a Dio monti sorgenti dalle acque delle vate al cielo, cimine guare eccetera e c'è una rassegna bellissima di quei luoghi lasciati da Lucia per la necessità di fuggire alle prepotenze di Don Rodrigo di conseguenza è il passo in cui la nostalgia è celebrata è celebrata in un modo dolcissimo perché quello di Lucia è un pensiero che tutti noi abbiamo ma anche se non lo sappiamo esprimere con la stessa penna di Alessandro Manzoni la nostalgia di Lucia naturalmente il centro di quella nostalgia è lontana anni luce da una grande nostalgia un'altra grande nostalgia quella di Dante Alighieri per la sua Firenze Dante Alighieri ebbe nostalgia per tutta la vita da quando essendo stato condannato per dissidi politici all'interno della città fu condannato prima a pene pecuniarie che non pagò a causa di che venne condannato al rogo con una seconda condanna che ribadiva quella di prima venne pure condannato nuovamente a morte per sfuggire ovviamente alle due pene di morte che gli erano state combinate lui riuscì a fuggire anzi a tenersi lontano da Firenze ma fu costretto a tenersi lontano per tutta la vita fu esule fino alla morte perché sogna sempre di ritornare a Firenze dove desiderava essere ingoronato poeta nel suo bel San Giovanni per l'opera che lui aveva scritto alla quale aveva messo mano cielo e terra così racconta lui ebbene non lo potete fare perché morì in esilio e morì a Ravenna dove era stato ospitato da Guido da Polenta e Guido da Polenta è importante perché è il nipote della famosa Francesca Francesca da Polenta o Francesca da Rimini quella di cui Dante celebra la morte insieme al suo amante Paolo nel noto quinto canto dell'Inferno dove appunto ci sono i russuriosi e Guido da Polenta era il nipote che ospitò Dante fino a quando morì proprio a causa di un'ambasceria che Guido da Polenta gli aveva affidato per parlare con gli esponenti di Venezia e al ritorno da Venezia Dante passò attraverso le paludi di Comaccio dove si beccò la malaria nella quale morì dire a poco nel 1321 a Ravenna dove è stato per sempre poi accolto e ospitato e i ravennati non hanno mai voluto restituire il corpo e i resti a Firenze nonostante che Firenze li abbia sempre richiesti perché dicono che se lo hanno ospitato in vita hanno il diritto di ospitarlo anche da morto e difatti Dante è rimasto a Ravenna ospite anche in morte dei ravennati dopo ben 700 anni Io ti do un titolo, il titolo naturalmente di una poesia e tu ci racconti il resto In morte del fratello Giovanni Beh in morte del fratello Giovanni un dì se io non andrò sempre fuggendo di gente in gente Mi vedrai seduto sulla tua pietro, fratello mio gemendo, il fiore dei tuoi gentili anni caduto eccetera Non mi metto a declamare ma che conosco a memoria queste cose E beh oddio, qui ci sta la nostalgia di Ugo Fuscolo che ovviamente pensa a poter visitare almeno il fratello morto Il fratello morto si uccise da giovanissimo per non poter pagare dei debiti di gioco E per mantenere la sua diciamo onestà si suicidò E il fratello Fuscolo ne parla dicendo vorrei almeno visitare la tua tomba e sedermi sulla tua tomba in modo da poter fare omaggio alla nostra madre La madre lo so il suo dittardo traendo parla di me col tuo cenere muto ma io delusi a Poi le palme tendo e se da lungi i miei detti saluto sento gli avversi numi e le segrete Che al vivo il tuo furon tempesta e prego anch'io nel tuo porto quiete Questo di tanta spremia oggi mi resta straniere genti l'ossa mia rendete Allora al petto della madre mesta La sua nostalgia si risolve nel fatto che spera perlomeno che le sue ossa vengano restituite alla mamma che ovviamente piangerebbe anche la morte di questo secondo figlio dopo quella tragica del primo il fratello Giovanni che si suicidò per i debiti di gioco Prima di passare a un altro poeta ti posso anticipare che è Carducci Ma quanta roba c'è nella tua memoria? Beh quella di Carducci è una memoria stimolata No la tua La mia? Nella tua memoria eh sì perché insomma Beh possiamo dire beh oddio recitare tutto davanti sanguine è un poco lungo Però io lo conosco ma comunque non è il caso di mettersi a declamare No ma nell'insieme tra Divina Commedia eh Tutti i poeti praticamente del mondo non soltanto quelli italiani Beh oddio la bellezza della Divina Commedia è infinita Per cui qualunque cosa vogliamo raccontare è sempre gradita Perché poi l'uditore conosce Sono tutte cose conosciute non sto rivelando niente di nuovo Però è bello ricordarle e ripeterle Specialmente per quanto concerne questi grandi poeti E ricordiamoci un po' di Carducci allora Beh di Carducci l'importante è questo Il suo viaggio in treno I cipersi che a bulgari e altri schietti vanno da sanguito il duplice finale E lui incontra passando ci sono ancora Chi va in treno in quel luogo trova anche le scritte i cipressi del Carducci Ebbene lui li vede e i cipressi gli parlano Gli dicono fermati perché non ti fermi nei nostri luoghi Che sono i luoghi della tua infanzia Tu li conosci bene fresche la sera e ben noto il cammino E il Carducci dice ma io non mi posso fermare più Perché un tempo ero un ragazzo che tirava i sassi alle piante Adesso sassi non ne tiro più specialmente alle piante Anzi vi voglio bene ma non mi posso fermare Perché ho il rammarico di non poter perdere tempo Sono un uomo importante E quindi scrivo e scrivo e molte altre virtù Sono leggeri di greco e di latino E a me questo piace molto Sentire che il Carducci aveva questa passione per i greco e per il latino Ebbene non mi posso fermare E i cipressi dicono Tu dici che sei importante e te ne vai Invece la risposta è ben lo sappiamo Un povero uomo tu sei Non nel senso offensivo Un povero uomo nel senso di poca importanza Mentre invece tu te ne dai tanto E fermati, lascia perdere Carducci invece continua a dire Di che cuore con voi mi fermerei Ma non posso E il treno intanto corre E si vedono dei giovani cavalli che gareggiano in velocità col treno Mentre invece c'è un asino che non dà importanza Al passaggio di questo treno E c'è un asino biggio Rossicchiando un cardo rosso e turchino Non si scomodò La vaporiera non degnò di un guardo E a brucare serio e lento seguitò Sempre mi torna al cuore il mio paese Dova regnare un guidi e malatesto Tu parli di Atripalda Il passatore cortese Il re della storia Tu parli di Atripalda Il re della storia Continuamente Romagna solatia dolce paese E questa è una poesia del Pasquoli Il quale dice che sempre gli torna alla mente la bellezza del suo paese Sempre mi torna in mente il mio paese Cui regnare un guidi e malatesto E parla della Romagna E poi passa a parlare della bellezza della casa in cui abitava Dove lui studiava i personaggi storici o i personaggi letterari E finché un giorno nero tutti dovettero con i suoi familiari uscire e andare via da quel luogo Dice ma tutti un giorno nero migrammo come rondini tardive E io attualmente abito là dove è possibile Io la mia casa e la mia madre è dove mi trovo di passaggio E gli altri sono un po' lungi in cimitero E poi concludo dicendo così più non verrò Non verrò per la calura tra quei tuoi polverosi biancospini Perché non voglio trovare al posto che era la mia casa e il mio nido Gente strana che l'ha occupata Che io non ritrovi nella mia versura del cucolo ziosi piccolini E così conclude il suo rammarico nostalgico Per la perdita del luogo dove aveva vissuto la sua giovinezza da poeta e da studioso E che invece non rivedrà mai più Quindi il motivo è sempre quello stesso Il rammarico per i luoghi che sono stati lasciati O per una necessità o per altre esigenze E non più possibile ritrovarli Ma dal tuo punto di vista, prima di andare avanti con un altro poeta Dal tuo punto di vista, oggi noi abbiamo in qualche modo smarrito questa nostalgia per i nostri luoghi, per i nostri paesi? No La nostalgia c'è sempre, perlomeno penso che tutti noi, prima o poi ci troviamo a raccontare i fatti della nostra vita E l'uomo diventa particolarmente commosso Quando deve raccontare i fatti della sua infanzia E ricordare i luoghi che magari ha lasciato Perché quasi tutti noi, prima o poi dobbiamo emigrare da un luogo all'altro E lasciare quelli che erano i luoghi cari della giovinezza E di essi rimane solo il ricordo E il ricordo è la nostalgia che ci consente di riaccendere E riagomitolare il tempo E di ritrovare anche cose che ormai sono perdute I luoghi lasciati rimangono vivi nel ricordo nostalgico di tutti noi Qualunque persona parla dei suoi luoghi di infanzia, di origine Lo fa con commozione Anche se non è una persona particolarmente sensibile Lo diventa Lo diventa Senti, posso chiederti qualche ricordo del tuo paese? Attualizziamo un po', no? Poi parliamo anche della canzone napoletana in modo particolare Anche di quella romagnola Del tuo paese Beh, di paese mio Perché dico questo? Perché noi abbiamo sempre un titolo che riguarda le varie cose che sto scrivendo sulla tripalda E continueremo a scriverle finché c'è da ricordare Il titolo della rubrica è di Carmine Cioppa, non è mio Di Carmine Cioppa concordato con te Sì, sì Eh beh, ma comunque Poi è diventato No, io l'ho condiviso per carità Anzi Perché se no non lo potremmo dare E su quello noi raccontiamo un po' quei fatti di Atripalda E ovviamente la nostalgia ci sta Però io vorrei sapere qualche cosa di tuo rispetto ad Atripalda Io non riesco ad immaginare, ad esempio, Gabriele Meoli, adolescente Non riesco ad immaginarlo proprio Eh, me lo farei Ce lo devi tratteggiare tu Fatelo raccontare dal tuo amico e il mio amico Carmine Ciocco No, racconticelo tu, siamo qua, scusa Perché dobbiamo rinviare A raccontare tutta la mia infanzia Ma no, brevemente, un tratto soltanto così Beh, c'è in paese mio una puntata che io ho fatta Che è intitolata Monelli di Atripalda E... Eri un monello, eri un monello Credo di sì Credo di sì Però ero molto... Senti, però come fa un monello a diventare poi Avanti con gli anni, avanti, da giovane, giudice Diciamo un monello Un giudice monello No, 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 un monello pentito Un monello pentito Un monello pentito, secondo te, potrebbe essere Una lettura così anche un po' scherzosa della giustizia di oggi? No Non ti faccio dire cose che non vuoi dire No, 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 no Per carità, no Come si dice, scherza con i fanti e lascia stare i santi E quindi di Atripalda Proprio un affresco ma molto molto veloce Perché poi dobbiamo parlare della nostalgia nella canzone Ricordiamo proprio al volo di Atripalda Il momento elettorale o pre-elettorale Sono talmente accaniti nel voler da un lato avere un leader da sostenere E dall'altro un nemico da combattere Quindi in Atripalda abbiamo sempre avuto amici di cui non faccio nomi Ma forse qualcuno se ne può ricordare Che erano esaltati dal fatto di combattere contro gli avversari politici Come nemici da combattere E contemporaneamente esaltati dal sostenere la candidatura dei propri fans Di conseguenza avevamo questa doppia posizione Di Atripaldesi da un lato esaltati per difendere i propri candidati Dall'altro accaniti per combattere gli avversari Non è cambiato niente però Non è cambiato niente Però allora ci stava una maggiore passionalità Adesso vedo che c'è più di stacco La nostalgia nella canzone napoletana innanzitutto Non possiamo non dire Santa Lucia C'è un inno alla nostalgia in tante canzoni napoletane Inutile poterle citare tutte Però quello che fa da inno potremmo dire ufficiale Della nostalgia è Santa Lucia lontana Dove appunto si dice Si gira un munno sano Per chi ha trovato fortuna Ma quando spunta la luna lontana Non è un saggino cantato? Un saggio cantato poco 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 Non mi permetto per l'amor di Dio Tutto al più te lo potrai suonare col violino Ma non è il caso Però lo faremo col violino Prima o poi Un tempo io ero appassionato di violino L'ho studiato per 14 anni Con regolare studio Però adesso non è più il momento Non è più quell'età Santa Lucia Torniamo a Santa Lucia La nostalgia La nostalgia La nostalgia La nostalgia Gli napoletani che sono costretti Per immigrazione Per motivi di lavoro Ad allontanarsi Da Santa Lucia E la vedono allontanarsi Nel golfo Mentre la luna Illumina il mare E hanno diciamo Il dolore Di dover lasciare E allontanarsi Da un luogo Che a loro è caro E noi abbiamo Una canzone simbolo Che è appunto Santa Lucia lontana Che però è seguita Da molte altre canzoni Che ugualmente inneggiano La bellezza dei luoghi Per esempio Quella dell'orchestra Casadei Intolata Romagna Mia Romagna in fiore Anche quella esalta La bellezza dei luoghi E ovviamente Cari a chi canta Ed è un inno Anch'esso Di nostalgia Un inno nostalgico Ma di recente Molto di recente Abbiamo La nostalgia Elevata Al romanzo Il romanzo Di Ermanno Re Inditolato a nostalgia Dopo ne parliamo L'abbiamo conservato Per ultimo Ermanno Re Che merita Però volevo Chiederti Tra La nostalgia Nella canzone napoletana E Quella nella canzone romagnola Casa dei L'hai nominata No Romagna Mia Qual è C'è una differenza Tra queste due nostalgie Anche come contenuto culturale La nostalgia Santa Lucia non ha cittadinanza Ma il modo di esprimerla Ecco tu hai citato due canzoni Santa Lucia che è un classico Romagna Mia La differenza è che quella di Santa Lucia Con tutti i rispetto per Romagna Mia Voglio dire La stiamo alla tarantella La Santa Lucia Lontana è molto più toccante Molto più commossa Mentre Romagna Mia Anche il tempo musicale del waltzer È un po' più allegra È più diciamo festeggiante Invece Santa Lucia Lontana è piangente Più godereccia proprio No godereccia È una festeggiante Celebrante Santa Lucia Lontana invece è un pianto È un pianto molto bello Dicevi di Rea Abbiamo tre minuti Sul Rea Tutti per te Il romanzo parla Di un giovane Che si trova Il romanzo è proprio nostalgia Si trova coinvolto Nella malavita napoletana Per avere un amico Che lo porta un poco Sulla cattiva strada Un malombo così detto Così viene chiamato nel romanzo Assiste O è coinvolto In un omicidio Per copo di rapina Che l'amico fa E nel quale anche lui È corresponsabile Perché ha partecipato Anche se non è stato lui Ad uccidere La persona rapinata Che era poi Un usuraio del posto È costretto ad andarsene all'estero Proprio perché Coinvolto in questo omicidio Dove dopo 45 anni Torna Momentaneamente a Napoli Per il funerale Della propria mamma Ma preso dalla nostalgia Non si affretta A riandarsene all'estero Rimane a Napoli E rimane a Napoli E il correo Che ovviamente Se accorgi di lui Dopo 45 anni Lo uccide Per sopprimere Un testimone scomodo Per cui questa persona È vittima della nostalgia Perché non volendo Subito Ritornarsene fuori Ritornarsene fuori all'estero Dopo aver fatto il funerale Da te una cosa Dalla tua saggezza Che c'è C'è tutta C'è saggezza C'è cultura C'è buon senso Io non sono un saggio Lo sei Lo sei Fidati Lo sei Però Noi abbiamo parlato Della nostalgia Dei luoghi Della nostalgia Anche del tempo Del tempo Delle persone Certo Ma c'è un modo Per non provare nostalgia Cioè per fare in moto C'è un modo di vivere Per cui Non c'è poi La necessità Ecco Di essere nostalgici Che è comunque Un sentimento Marinconico Comunque Qual è il modo Cioè che cosa Non bisognerebbe fare Rispetto anche Agli impulsi Che noi abbiamo Durante l'esistenza Per evitare La nostalgia Intesa Bisognerebbe decidere Di non esistere E allora Finisce pure la nostalgia Dacci qualche cosa Di leggermente Più ottimistico Beh Dedicarsi Alla bella vita Che ovviamente Oscura E cancella I mali dell'animo La bella vita È fatta appunto Per nascondere Le proprie ansietà I propri Pensieri E il pensiero Più importante Dell'uomo E appunto È la nostalgia Forse anche gli animali Cosa c'è la bella vita Secondo te La vita primola No La bella vita È la vita Spensierata Quella fatta Di perseguimento Della felicità Che persegue Non è una brutta cosa No No È una bella cosa Perché bella vita Si interna Abbiamo un argomento Che forse Dovremmo Discutere Sull'epicureismo L'epicureismo La filosofia La filosofia del piacere O della felicità Che malamente È stato inteso Spesso Dalle persone Che hanno criticato Ci mettiamo un po' Di epicuro Sui social Gabriele Ti garantisco Cominciano a fischiatire Perché sono pazzi Perché epicuro No 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 Dicevo sui social No anzi Beh oddio Sui social A chi lo raccontiamo A chi lo raccontiamo Bene Gabriele Anche questa puntata La chiudiamo qui Sai cosa Questo è un complimento Che non ti faccio io È quello che Si chiamano Dicono Il feedback Arrivano I feedback Sulle cose che si fanno Anche sulle trasmissioni Che facciamo E io raccolgo Sempre più Persone Testimonianze Che dicono Ma quante cose Stiamo imparando Da Gabriele Meori Ah no E questa è una Gran bella cosa Questa è una Gran bella cosa Io non Non credo Non credo Insegnare E io la definisco così La pedagogia buona Del giornalismo Perché comunque Anche questo è il giornalismo Beh Poi chi non vuole capirlo Non crede Se posso dare una mano Il giornalismo Ma devo fare Devo fare Ecco Il libro Sì Vabbè Questo è un po' Un po' di vanità personale Il libro di Franco Genzale L'irriverente Con tutto il rispetto L'abbiamo fatto Per fare una beneficenza particolare Chi ci segue Lo sa Eccetera La La Io non posso Dedicare Questa Dedica a Gabriele puntini puntini grazie per tutto ecco, chi vuole capire capisce grazie a Gabriele grazie a voi e arrivederci e arrivederci alle prossime puntate di Il Pina TV grazie a tutti